All'incontro formativo di Pesaro si è parlato anche dei bambini e della necessità di realizzare un centro per le cure palliative anche nelle Marche. Elmo Santini è il presidente dell'associazione Maruzza Regione Marche Ollus, un'associazione che si occupa di cure palliative pediatriche, quindi rivolte esclusivamente ai bambini. Parliamo della situazione nelle Marche che ovviamente non è una regione che è immune da problemi di cure per bambini che hanno problemi di carattere sanitario, quindi innanzitutto una fotografia delle Marche a livello di cure palliative. Allora, nelle Marche le cure palliative sono state prese in considerazione da due o tre anni fa quando è nata la nostra associazione che ha smosso la Regione Marche che aveva già aderito al progetto nazionale per le cure palliative, poi ci siamo impegnati con la Fondazione Maruzza che è la nostra mamma di Roma e abbiamo portato il progetto alla Regione. La Regione ha accolto favorevolmente questa iniziativa e ha già deliberato in data 17 novembre l'istituzione di un centro cure palliative pediatriche che è molto importante perché è la prima iniziativa del Centro Italia. Nelle Marche abbiamo otto hospice per gli adulti, per i bambini zero. Il fabbisogno attuale nelle Marche è di circa 250 famiglie che vanno a curare i bambini fuori. Questo nostro progetto prevede innanzitutto un risparmio per la Regione Marche di 18-20 milioni di euro l'anno. Quindi quando la Regione dice che non ha soldi, noi diciamo che con questo progetto di curare i bambini nella nostra Regione puoi risparmiare 18 milioni di euro l'anno, che non sono brustolinico, ma noi soprattutto lo facciamo per le famiglie, perché le famiglie oltre al dolore fisico hanno anche un disagio economico, perché le cure palliative mediamente durano 60 giorni. Quindi nessuno ha 60 giorni di ferie, uno dei due genitori perde il lavoro. Quindi primo problema. Secondo, andare fuori costa soldi, per cui un ulteriore disagio economico e le famiglie poi entrano in crisi. In questo progetto, diciamo, in questa situazione il 36% delle famiglie si separa, il 54% vive da sbandati, solo il 10% si unisce di più. Ma nel 36% che si separa, uno dei due finisce la droga, alcol, anoressia o suicidio. Quindi questi dati sono i dati in Stato nazionali. Noi cerchiamo di fare qualcosa e speriamo che la prossima giunta regionale prenda in mano la situazione per decidere finalmente di fare qualcosa anche alla nostra Regione, che potrebbe essere anche un progetto interregionale, perché non c'è niente nella Bruzza, non c'è niente in Umbria, dove sappiamo ci sono 147 famiglie in Umbria nella stessa situazione. Le cure palliative hanno sempre più necessità, perché i bambini che ricorrono a questa situazione, solo nella provincia di Pesaro, nel 2014 c'è stato un incremento del 30%. Da 51 bambini che avevamo nel 2013, nel 2014 siamo passati a 65 bambini. Quindi purtroppo, dico purtroppo, questa necessità è sempre più impellente e speriamo che, come ha scritto la nostra fondazione a tutti i candidati della Regione Marche, anche la Regione Marche finalmente si faccia questo centro per bambini e soprattutto per le famiglie. La sollecitazione che forse è anche necessaria è quella di allargare questo concetto anche all'opinione pubblica, della necessità di istituire proprio un centro di cure palliative. Esatto, perché purtroppo in queste situazioni, spesso quando si parla di cure palliative, si parla del fine di vita, invece non è così, perché spesso queste famiglie hanno anche lunghe aspettative di vita, perché non parliamo solo tumori oppure malattie ematiche, ma ci sono anche bambini che hanno altre malattie, malattie rare, malattie che a volte non sono riconosciute, quindi queste famiglie non hanno neanche il supporto della Regione, non hanno sovvenzione, non hanno nulla, si trovano tutto addosso e spesso quando questa società che si attende al piacere, tende a emarginare questo discorso. Infatti quando abbiamo cominciato il problema, l'approccio a questa situazione, a Roma mi hanno detto, diciamo te, troverai difficoltà ad avere persone con te, ma chi aderirà non ne uscirà più. Infatti è così, piano piano si stanno avvicinando altre persone, come si diceva prima nel convegno stiamo gettando semini, perché questo problema si è sentito, perché questo problema che a volte capita tutto, perché tocca agli altri, ma dovremmo solo metterci a corda che sono gli altri, perché poi alla fine gli altri siamo noi e su questo speriamo che quando stiamo facendo, quando la Regione marca già deliberato questa legge, qualcuno raccolga in mano questa situazione e se faccia qualcosa anche a nostra Regione per dirsi veramente a misura d'uomo e a misura di bambino.